No a ricovero per migranti in via Flavio Gioia, negli spazi dell'ex bazar del Silos. Sì, Fratelli d'Italia ha già espresso tutta la propria contrarietà per una serie di motivi. Innanzitutto non riteniamo che fare un centro per senza tetto al Silos risolverebbe alcun problema. Così il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Giacomelli, 12 giorni fa al telegiornale di Telequattro aveva espresso la contrarietà di Fratelli d'Italia al dormitorio per migranti in via Flavio Gioia. Ieri sera in consiglio comunale il cambio di passo anche da parte del sindaco di piazza e stamani a Sveglia Trieste il dibattito in onda in diretta televisiva si è incentrato proprio su questo tra Babuder di Forza Italia e la Massolino di Adesso Trieste. Il comune fa retromarcia sul dormitorio di via Flavio Gioia. Siamo sinceri, io ho un nuovo governo che appoggio, che ho sostenuto, che sostengo da due settimane e continuo a sentire parlare di Pozzallo-Lampedusa, Pozzallo-Lampedusa. Mi piacerebbe sentire parlare di Trieste in queste condizioni. Relativamente a questo passo indietro sulla possibilità di avere un dormitorio in via Flavio Gioia, è vero, magari non sarebbe stato sufficiente, ma piuttosto che niente, meglio piuttosto, come si può dire. Ma no, quelli sì che esebutai. Soprattutto considerando le temperature gelide che avremo nei prossimi tempi. Ma bisognerebbe avere anche la contezza che un solo dormitorio qui a Trieste servirebbe a nulla, perché verrebbe riempito nel giro di un'ora e nel giro di un'ora noi avremo di nuovo tutte le persone sparse nella città. Noi avevamo visto con favore l'apertura verso la possibilità di utilizzare gli spazi in via Flavio Gioia. Questo passo indietro ci rammarica molto e riteniamo anche che sia relativo al diktat di Fratelli d'Italia che si è appunto dichiarata contraria più che a delle effettive difficoltà tecniche. Riteniamo che sia sbagliato questo passo indietro e che invece andrebbe trovata più presto una soluzione.